Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi facciamo un video, come avete letto già dal titolo, prodotti top e flop del periodo, ossia i prodotti che sto amando di più in questo periodo e quelli che invece mi stanno deludendo. Devo dire che sono abbastanza fortunata a questo giro perché i top prevalgono sui flop, i flop sono solo due, però ve li mostro ugualmente. Partiamo con i top che sono i più carini, anche i più sostanziosi, poi dopo vi mostrerò anche i due flop. Il primo prodotto top del periodo è un prodotto che sicuramente avete visto già in tantissimi altri video perché è molto chiacchierato ultimamente ed è questo burro struccante di Biofficina Toscana. che io ero molto molto curiosa di provare. Allora, in generale io amo Biofficina Toscana, questo non vuol dire che mi siano piaciuti tutti i prodotti che ho provato. Questo mi sta piacendo. È un prodotto che è uscito insieme con lo struccante bifasico che però io non ho preso. Non ho ancora preso perché avevo due o tre bifasici da smaltire, quindi non volevo aggiungerne un altro. Ho scelto di provare questo qua anche perché mi incuriosiva parecchio. Dunque, questo prodotto è uscito già da un pochino di tempo. Io l'ho acquistato, devo dire, quasi subito, quindi sono già un po' di settimane che lo provo. Allora, ve lo faccio vedere. È contenuto in questo bel barattolone, questo bel barattolone qui, che è da 150 ml. È un prodotto certificato IAB, quindi ottimo inci, nulla da dire. Non testato su animali. Ha ben 12 mesi di PAO. Ve lo faccio vedere anche all'interno, come vedete ce n'è rimasto abbastanza poco. Questa è la consistenza, spero si veda bene. È burrosa ma non troppo, nel senso che è una via di mezzo tra un burro e un olio. Però non è liquido, quindi non pensate a un prodotto liquido. È un prodotto burroso morbido, diciamo, ed è piacevolissimo da utilizzare. Allora, per quale motivo mi piace? Innanzitutto strucca molto molto bene, qualsiasi tipo di trucco. Io lo uso fondamentalmente come struccante per il viso, perché io ho gli occhi molto molto delicati, quindi tendono facilmente ad arrossarsi. Ho anche provato ad utilizzarlo sugli occhi e sinceramente me li ha fatti un po' bruciare, come la gran parte dei prodotti che utilizzo. Quindi sugli occhi utilizzo quasi sempre un bifasico, chiaramente un bifasico di buona qualità, perché gli altri prodotti quasi tutti me li fanno bruciare. Sul viso però è eccezionale. Se ne preleva una piccolissima quantità con le dita, si massaggia. Si può utilizzare sia sul viso asciutto che sul viso bagnato. Sul viso asciutto rimane praticamente come un olio, una specie di olio che scioglie il trucco e poi si può rimuovere tranquillamente con un pad struccante, un pannetto struccante o un semplice cotoncino, insomma quelli che magari utilizzate. Io prediligo insomma pad riciclabili, diciamo, non uso più i cotoncini, però va benissimo anche un cotoncino normale se avete quelli a casa. Poi invece, emulsionato con l'acqua, questo burro diventa praticamente una cremina, una specie di latte detergente e viene via anche da solo. Quindi si può sempre rimuovere, ripeto, con un pad, un cotoncino, come volete, ma volendo si può anche sciacquare con l'acqua come un normalissimo latte detergente e viene via senza lasciare minimamente la pelle unta, ve lo assicuro. Perché, ripeto, resta un latte detergente, quindi non pensate al burro struccante come qualcosa di molto oleoso che poi va lavato, rilavato, insomma, e che lascia comunque un po' l'effetto frittella. Non è il suo caso. Io ovviamente lo sciacquo sempre. Ho visto in giro delle recensioni, so che ci sono anche persone che dopo di lui procedono con la skin care normale, quindi mettono magari il tonico, la crema, il siero, la crema, eccetera, eccetera. Non usano un detergente. Io lo uso un detergente con qualsiasi tipo di prodotto struccante utilizzi, che sia un burro, che sia un olio, che sia un'acqua micellare. Io utilizzo sempre un detergente a risciacquo dopo, perché voglio fare un secondo step di pulizia e tenere il viso più pulito. Però, ripeto, c'è anche chi lo utilizza tal quale, così com'è. Fondamentalmente potrebbe anche andare, anche se, ripeto, io vado a togliere proprio le ultimissime tracce con un detergente a risciacquo, ma, ripeto, non lascia minimamente il viso unto. La profumazione, come immaginerete, è buona, è quella della linea ai frutti rossi di Biofficina Toscana. Quindi, se avete provato lo scrub, se avete provato la crema corpo, insomma, è quella. La profumazione è quella lì, la stessa, precisa, identica. Buona, io la trovo gradevole, dolce, ma non troppo, insomma, buona, a me piace. Ripeto, per me è un prodotto ottimo, perché ha l'efficacia di un burro struccante, senza però dare quell'effetto, un ticcio, frittella, che a me non piace. Secondo prodotto preferito del periodo, restiamo sempre in zona viso, è questo contorno occhi di Don Solia Toscana. Allora, questo qui lo sto utilizzando già da un pochino di settimane, è il trattamento super intensivo antirughe, siero contorno occhi, labbra e zone critiche, effetto lifting. Allora, questo è un prodotto che, ripeto, potrebbe essere usato sia per il contorno occhi che per il contorno labbra. Io lo sto utilizzando, onestamente, solo per il contorno occhi e lo utilizzo però mattina e sera. Al momento sto, diciamo, facendo un'azione un po' urto e quindi sto utilizzando solo lui. Un po' perché, ripeto, lo voglio testare bene e un po' perché sono 30 ml di prodotto quindi per essere un contorno occhi è tantissimo. Ha 9 mesi di PAO, però, insomma, vorrei evitare che me ne duri 99 di mesi quindi, insomma, cerco di usarlo in maniera abbastanza massiccia se no, davvero, divento nonna prima che finisca questo prodotto qui. Che dire, mi trovo alla grande, mi piace veramente tantissimo. È un prodotto che, secondo me, è adattissimo sia per il giorno che per la sera. In particolare, se, diciamo, come me, avete un contorno occhi non proprio giovanissimo perché, ripeto, insomma, 30 anni, comunque, insomma, qualche rughetta, qualche linea d'espressione, si inizia a vedere come è fatale che sia. Insomma, a meno che non abbiate 16-18 anni, abbiate voi, e possiate permettervi qualcosa di un pochettino più leggero. Insomma, nel mio caso, diciamo, dalla mia età in su, è opportuno utilizzare qualcosa di un attimino più strong e, in particolare, se si tende ad avere il contorno occhi un po' secco, come è il mio caso. Il mio tende a seccarsi facilmente, quindi ha bisogno di una buona idratazione. Sia la mattina come base trucco, altrimenti il trucco non mi tiene, mi si infila nelle pieghette dopo 5 minuti. Sia la sera, altrimenti la mattina dopo mi sveglio col contorno occhi abbastanza secco, e, insomma, non è buon segno alla mia età. Che dire? Ripeto, io lo sto utilizzando sia la mattina che la sera. Mi piace tanto, si assorbe benissimo. Si massaggia una piccolissima quantità con i polpastrelli, si assorbe veramente in un attimo. La sera, diciamo, ne metto forse un pochino, pochino in più per lasciarlo agire. La mattina ne metto poco, poco in meno e mi si assorbe in un attimo, insomma, volendomi potrei truccare immediatamente. Io comunque lascio passare qualche pochino di tempo, però non mi lascio assolutamente la zona unta e, diciamo, con un prodotto difficile da assorbirsi. La profumazione è molto neutra, quindi, insomma, se amate prodotti che non abbiano profumazioni eccessive, questo qui va benissimo. Poi, ripeto, è un prodotto formulato molto bene, ricco di attivi antirughe e antiossidanti, che, sinceramente, io vi straconsiglio. Costicchia un po', io l'ho preso in promozione, però calcolate che sono anche 30 ml di prodotto quando i normali contorni occhi sono da 15, quindi, insomma, costicchia un attimo, però vi dura anche parecchio, ripeto, specie se, a differenza mia, lo usate magari solo la sera, davvero, altro che nove mesi, vi dura tre vite e mezzo questo flaconcino qui. Io, sinceramente, da quando lo utilizzo, sto vedendo la differenza. Vi posso dire che, per qualche giorno, tra i quattro giorni, non l'ho utilizzato perché avevo un po' di campioncini da smaltire, quindi ho provato altro e vi dico che ho visto la differenza, nel senso che ho notato, dopo alcuni giorni di non utilizzo, di nuovo il contorno occhi un po' più secco, vedevo che il trucco tendeva ad entrarmi un po' di più nelle pieghette, assegnarmi un po' lo sguardo. Quando poi ho ripreso ad usarlo, ho ripreso, diciamo, ad avere i benefici che avevo prima, quindi mi sono accorta di nuovo che il trucco mi teneva di più, che il contorno occhi era più morbido e più idratato. Io, sinceramente, credo che abbia buone chance di entrare nella mia lista di mai più senza, a meno che non ne trovi uno ancora migliore, però diciamo che, se la sta giocando bene, ha buone possibilità di vittoria. Terzo prodotto top del periodo è un prodottino che in realtà sto utilizzando da due o tre giorni, però davvero mi ha rapito il cuore all'istante, ed è questo olio doccia sublime Argan e Argan delle Driadi. Questo l'ho preso al Tigotà, come sapete, questa è una linea che tratta il Tigotà, almeno da me ce l'ha il Tigotà. l'ho preso approfittando del 20% di sconto per il mio compleanno, perché è stato il mio compleanno, quindi ho approfittato. E ero molto curiosa questa cosa di vedere un attimo questo olio doccia. Letto così, si potrebbe pensare che sia un olio post doccia. In realtà no, è proprio un olio da doccia, nel senso che è un prodotto che è un po' una via di mezzo tra un bagnoschiuma e un olio. È un bagnoschiuma diciamo leggermente oleoso, ma poco poco oleoso, che quindi fa il suo lavoro di bagnoschiuma, lava, lava bene, fa anche una bella schiumetta, però lascia la pelle più morbida e più idratata rispetto ai comuni bagnoschiuma. Questo prodotto mi sta piacendo, devo dire. La prima volta che l'ho utilizzato ho detto wow, mi piace, è davvero carino. Tra l'altro ha una profumazione super buona, io amo la profumazione di questa linea delle Driadi, mi piace tantissimo perché è leggermente talcata, io adoro questo genere di profumazioni, quindi per me questo prodotto è entrato veramente tra i top del periodo, bagnoschiuma top del periodo. Lo alterno ad un altro di Brochet che anche mi piace, anche buono, sapete che a me piacciono il bagnodoccia di Brochet, li sto un po' alternando, però questo qua ha quel quid in più rispetto a tutti, anche a quelli di Brochet, è un po' più particolare come prodotto e mi sta piacendo veramente tanto, quindi secondo me se avete una pelle leggermente secca che diciamo necessita di una coccola in più e di un detergente non troppo sgrassante, prova, date una chance a questo prodotto perché potrebbe piacervi prima di passare a prodotti magari per bambini quindi super 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 delicati io una chance a lui la darei, io non soffro di pelle secca grazie a Dio sul corpo quindi non ho particolari problematiche e particolari esigenze però mi sta piacendo. Quarto prodotto top del periodo è un prodotto di make up non è un prodotto bio ve lo dico subito è precisamente è una combo matita più rossetto di Eva Garden la metto così così vedete il colore di Eva Garden allora le ho presi dalla mia estetista lei tratta l'Eva Garden amore immediato lei mi aveva detto guarda ti troverai bene perché questa è una tinta labbra che non secca assolutamente le labbra tiene un sacco di tempo io ci mangio la tengo tutto il giorno ci faccio tutto vedrai provala poi mi dici davvero è credo la migliore tinta labbra che io abbia mai provato finora sia in termini di confortevolezza perché davvero non secca le labbra non le secca diciamo quando è applicata e non le lascia secche neanche dopo diciamo che dopo magari applicare un burro cacao o fare un piccolo scrub diciamo una coccola in più magari non fa male alle labbra però non posso dire che lasci le labbra secche peraltro ha una durata pazzesca a differenza delle tinte labbra che su di me tengono e non tengono nel senso che o vanno via oppure comincio a fare così io a mangiarmene perché inizio a sentirmi le labbra secche quasi mi si spaccano quindi me le comincio a mangiare io alla fine me le tolgo lo so io ho problemi con le tinte labbra questa qui è talmente confortevole che resiste tantissime ore senza seccare le labbra e resiste addirittura mangiando vi posso dire che proprio ieri io ho utilizzato questa combo qui ho messo prima la matita che è molto buona una mina molto molto morbida un bel colore pieno scrivente già per una passata poi ho applicato la tinta stesso discorso si asciuga in pochissimi secondi è un bel colore è esattamente il colore proprio così come lo vedete quindi non è un colore che poi applicato sbiadisce l'ho messo la mattina prima di andare al lavoro l'avrò messo intorno alle otte e mezza più o meno otte e mezza nove l'ho applicata sono uscita sono stata fuori tutto il giorno non sono rientrata a casa neanche per pranzo ho comprato un cornetto salato con il tonno quindi insomma era anche qualcosa di oleoso ho mangiato non mi si è tolta nella maniera più assoluta quando sono tornata la pomeriggio diciamo non proprio la sera sono tornata che erano più o meno le sette di sera era ancora lì era tutta lì l'ho struccata con un bifasico e vi dirò di più mi ci è voluto un doppio giro di bifasico perché questa qui non pensate proprio di toglierla senza un bifasico è tempo perso ma anche con un bifasico io devo fare un paio di passate nel senso che la prima passata mi toglie il grosso però restano ancora le labbra leggermente colorate tornano diciamo le mie labbra nude solo dopo due giri di bifasico per farvi capire la resistenza di questa tinta veramente ottima mi piace tantissimo infatti credo che prenderò sicuramente qualche altro colore magari un rosso non lo so ma voglio prendere sicuramente qualche altro colore perché ripeto quando ho bisogno di tenere su un rossetto tantissime ore praticamente una giornata intera di mangiare sapendo che resterà lì quindi ho bisogno di un prodotto a lunghissima tenuta a lunghissima durata so che di lui mi posso fidare tranquillamente passiamo ai due prodotti flop del periodo sono solo due quindi insomma farò abbastanza presto il primo prodotto flop è questa essence di benton allora questa qui l'avevo presa un mesetto fa no anche un po' di più in realtà su amazon ne avevo sentito parlare bene ma avevo insomma letto visto recensioni abbastanza positive questa è una essence quindi viene direttamente dalla skin care routine coreana e diciamo l'essence è una via di mezzo tra un tonico e un siero quindi è un po' più corposo di un tonico e un po' meno corposo di un siero è proprio una consistenza ibrida tra i due diciamo che il senso della essence è quello di è quello di far sì che la pelle sia pronta sia più pronta più reattiva e più pronta ad accogliere i trattamenti che verranno successivamente dovrebbe quindi illuminare la pelle e ripeto prepararla ai trattamenti successivi io sinceramente non sto vedendo nulla di tutto ciò non posso dire che sia un cattivo prodotto nel senso che non mi sta creando arrossamenti i brufoletti cioè non ha effetti collaterali almeno su di me però sinceramente insomma io benefici non ne ho visti tra il prima di utilizzarlo quindi parliamo di un paio di mesi fa un mese e mezzo due mesi fa ad ora non ho visto nessun beneficio ho voluto testarla bene prima di parlarvene perché mi son detta magari ha bisogno di un po' di tempo in più vediamo con un utilizzo costante cosa succede la sto utilizzando tutte le sere tutte tutte le sere quando riesco anche la mattina se non vado a lavorare proprio all'alba insomma sto cercando di utilizzarla infatti sono sicuramente oltre la metà però francamente io benefici non ce ne vedo nel senso che diciamo che usarla o meno per la mia pelle è la stessa cosa quindi sicuramente terminerò il prodotto ma non ho nessuna intenzione di ricomprarlo tra l'altro un'altra cosa che non mi piace di questo prodotto è l'odore è bruttissimo ora mi scuso con i deboli di stomaco però ve lo dico proprio così perché non so in quale altro modo dirvelo ha un odore di sudore questa vi chiedo scusa ma è proprio l'odore lì cioè l'odore di ascella non lavata è proprio quell'odore quindi insomma la sera applicare questa cosa qui che puzza di ascella non lavata non è proprio il massimo della gioia ripeto lo sto utilizzando per smaltirlo ma sicuramente è un prodotto che non mi è piaciuto assolutamente e non riacquisterò secondo e ultimo prodotto di questo video nonché flop del periodo è questo bifasico melograna bio della bioteca italiana questo l'avevo preso se non erro sempre a tigotà era uscita questa linea melograno e avevo deciso di provarlo ero curiosa insomma era tra l'altro anche un prodotto ben formulato con boninci anche se non credo che abbia certificazioni no infatti sono 125 ml per 6 mesi di pao e diciamo è abbastanza piccino anche comodo da portare dietro se magari sia in viaggio perché non mi piace fondamentalmente perché è molto 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 e sottolineo molto oleoso per struccare strucca strucca anche bene perché chiaramente ha una percentuale di oli altissimo strucca bene gli occhi non me li fa bruciare devo dire questo no non me li fa bruciare e non me li appanna però è molto molto pesante anche quando vado a rimuoverla con un pad con un cotoncino con quello che è mi lascia comunque la sensazione di unto sulla pelle ho voluto farmi male l'ho provata anche sul viso bocciata l'ho fatto una sola sera mi sono detta mai più perché davvero mi è rimasto il viso proprio unto veramente quell'effetto frittella di cui vi parlavo prima terribile cioè proprio terribile anche lavando dopo con un detergente non lo so io continuavo a sentirmi il viso pesante come se ancora ci fosse qualcosa non ho voluto fare un secondo giro di detergente per evitare insomma di andare a stressare troppo il viso però davvero è un prodotto che non mi piace non mi piace nella maniera più assoluta perché ripeto insomma c'è chiaramente ci deve essere una parte oleosa in un bifasico però dovrebbe essere ben bilanciata non è ben bilanciata ve lo dico ripeto anche da da ex spignattatrice io ho realizzato un bifasico che poi ho utilizzato per un certo periodo e non era così perché chiaramente insomma quando si va a realizzare un bifasico solitamente si mette una percentuale di oli 1 a 3 grossomodo qui almeno 50% è olio ed è tanto veramente tanto tanto unge tantissimo quindi è un prodotto che non mi piace che sto smaltendo ma no non ci siamo bene io vi ho mostrato questa rapidissima carrellata di prodotti usati nel periodo quindi tra top e flop fatemi sapere se li conoscete se li avete provati se vi sono piaciuti se non insomma lasciatemi qua sotto qualche feedback qualche commento io spero che questo video vi sia piaciuto e se vi va noi ci vediamo al prossimo ciao ciao